Ciao a tutti, sempre in tema di pesca bottom medio pesante o leggera di questi periodi invernali dove il pesce è sul fondo, un artificiale molto molto valido di casa Valcain è il classico Lee Worm, è un artificiale che ha tante tipologie, offre tante tipologie di recupero, se il fondale è pulito possiamo andare con un recupero lineare anche abbastanza lento con la canna medio alta, se il fondale magari è più sporco, ci sono dei sassi, possiamo far saltare su e giù ovviamente sul fondale sempre con un recupero più o meno lento, lo vado a muovere con un filo rigido, andrebbe bene un trecciato Torai PE o un poliestere Torai 04-05 a seconda della tipologia anche di pesce che troviamo lo vado a muovere con una DaySlave 61 ISSL vedete che ha un'ottima lanciabilità, lo faccio scendere sul fondo, in questo tipo artificiale posso tenere anche la canna spostata rispetto a me, proprio vedendo di farla lavorare, sento ovviamente immediatamente il terreno quindi con l'artificiale che striscia sul terreno, quando sento perché vado a impuntare faccio un lavoro del genere con la canna, lo vado a sollevare e riparto, vedete come il pesce mi è venuto incontro, ha fatto di tutto per allentare, perché ovviamente è un pesce stanziale, questo è il lagono puro, eccolo qua, ciao a tutti! Grazie! Grazie!